Alan Turing, uno dei padri dell'informatica. Alan Turing è stato matematico, logico, crittografo e filosofo britannico, considerato uno dei padri dell'informatica e uno dei più grandi matematici del XX secolo. Il suo lavoro ebbe una vasta influenza sulla nascita della disciplina dell'informatica, grazie alla sua formalizzazione dei concetti di algoritmo e calcolo mediante l'omonima macchina, che a sua volta costituì un significativo passo avanti nell'evoluzione verso il moderno computer biografia. Alan Turing nacque a Londra il 23 giugno 1912. Era figlio di un funzionario dell'amministrazione coloniale britannica e di una casalinga. Fin da piccolo mostrò un talento precoce per la matematica e le scienze. A soli 12 anni entrò all'S.T. John S. College di Cambridge, dove si laureò con l'Ode in matematica nel 1934. Dopo la laurea, Turing si trasferì negli Stati Uniti per frequentare il Princeton Institute for Advanced Study. Qui iniziò a lavorare sulla teoria dei numeri e sulla logica matematica. Nel 1936 pubblicò un articolo fondamentale, intitolato Uncomputable Numbers, with an application to the scale problems problem, in cui formalizzò il concetto di algoritmo e calcolo. In questo articolo, Turing introdusse la nozione di macchina di Turing, un modello matematico di calcolo che rappresenta il fondamento teorico dell'informatica moderna. Nel 1938, Turing tornò in Gran Bretagna per lavorare al Government Code and Cypher School, un'unità segreta incaricata di decifrare i messaggi in codice utilizzati dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui Turing contribuì in modo decisivo al progetto Ultra, che permise agli alleati di decifrare i messaggi inviati dalla macchina Enigma, utilizzata dai tedeschi per le comunicazioni militari. Il contributo di Turing a Ultra è stato stimato come equivalente a quello di un'intera divisione di carri armati. Dopo la guerra, Turing continuò a lavorare nel campo dell'informatica. Nel 1950 pubblicò un articolo intitolato Computing Machinery and Intelligence, in cui introdusse il concetto di test di Turing, un test che si propone di stabilire se una macchina sia in grado di pensare. Turing era omosessuale, un orientamento sessuale che all'epoca era illegale nel Regno Unito. Nel 1952 fu condannato per indecenza Gravel e condannato a due anni di condizionale. Come parte delle condizioni della sua libertà condizionale, fu costretto a sottoporsi a una terapia ormonale di conversione. Turing morì suicida il 7 giugno 1954, all'età di 41 anni. La sua morte è stata attribuita a un'overdose di cianuro. Contributi all'informatica Il lavoro di Alan Turing ha avuto un'influenza profonda e duratura sull'informatica. La sua formalizzazione dei concetti di algoritmo e calcolo ha gettato le basi per lo sviluppo dei moderni computer. La macchina di Turing è un modello matematico che rappresenta il fondamento teorico dell'informatica. Il test di Turing è un test che si propone di stabilire se una macchina sia in grado di pensare. Eredità Alan Turing è considerato uno dei padri dell'informatica. Il suo lavoro ha avuto un impatto fondamentale sullo sviluppo di questa disciplina e ha contribuito a plasmare il mondo moderno. Nel 2013, il governo britannico ha ammesso che Turing era stato ingiustamente perseguito per la sua omosessualità. Nel 2015, la regina Elisabetta II gli ha concesso la grazia postuma. Oggi, il nome di Alan Turing è onorato in tutto il mondo. Nel 2017, è stato inserito nella National Gallery of Portraits di Londra. Nel 2021, è stato il protagonista del film biografico The Imitation Game, interpretato da Benedict Cumberbatch. Il lavoro di Alan Turing continua a ispirare e influenzare gli scienziati e gli ingegneri di tutto il mondo. Il suo contributo all'informatica è inestimabile e la sua eredità continuerà a vivere per molti anni a venire.